Dopo 47 anni, la DACA, storica azienda leader nella produzione e lavorazione di materie plastiche, ha annunciato che in tempi ancora non definiti farà ricorso alle procedure fallimentari per cessata produzione. Una scelta forzata l'ha definita l'amministratore unico dell'azienda Salvatore Catalano. Dal 1 giugno, nella sede industriale della DACA, i macchinari utili alla produzione sono rimasti spenti e 130 lavoratori sono stati costretti a sospendere la loro attività lavorativa, senza alcun tipo di spiegazione. Nell'ennesimo tavolo tecnico, tenuto oggi nella sede del Comune di Acicatena, si è discusso per tentare di trovare soluzioni e per salvaguardare il futuro degli oltre 100 lavoratori. Alla regione siciliana verrà chiesto di finanziare la casa integrazione per cessata attività, anche se chiaramente si tratterebbe di un rimedio temporaneo. Nel frattempo si attendono anche risposte dal Ministero del Lavoro. In pratica la casa integrazione, oltre a garantire un salario ai dipendenti, diventerebbe propedeutica ad un possibile passaggio di proprietà che garantisca la continuità contrattuale per i lavoratori. Rimane però un dato di fatto, secondo quanto imposto dall'Europa, infatti il mercato di plastica in poco tempo non esisterà più. È lecito dunque chiedersi chi potrebbe investire su un settore pronto a scomparire, ma acquistare il marchio sarebbe più che possibile se un imprenditore fosse pronto alla conversione della produzione.